Il pallone di San Marco Poi San Marco al limite dell'aria alimenta l'azione Il destro di Ciccolini La palla che colpisce la traversa San Marco Il gioco di gambe Prova il sinistro San Marco Un gol pazzesco Anzi c'è stato il fallo Ma il gol viene convalidato Dunque 1-0 per la BNL Il numero 7 dunque della BNL Ha portato in vantaggio i suoi Ed è sempre lui il più attivo Buona la verticale Ciccolini il destro Raddoppio Il numero 8 del Sletiad Lancio lunghissimo in avanti C'è un buon 2 contro 2 Gestisce alla grande però la difesa Della BNL Che va anche a trovare le terzate In questa ripresa Con la BNL che gestisce Il largo vantaggio di 3 reti a 0 Il gol di San Marco Della doppietta di Ciccolini San Marco intanto Ancora un gran destro 4-0 Due gol bellissimi di San Marco Se ne va intanto San Marco Il tocco morbido In mezzo Col piattone San Marco Mette dentro il gol del 5-0 Tripletta per il numero 7 Usa da McDade Spagnolo Ha un po' di spazio per recalciare Preferisce servire Ciccolini Le controllo Poi le destro Ancora Ciccolini 6-0 per la BNL Fischia l'arbitro Finisce qui La match tra BNL e Etihad 6-0